Per Teddy Basket di San Gino, mi rega da 1. Patrick, stasera leggerà il risultato senza vincere la partita, pensare a un domenico assoluto di Pistoia. Invece sei partito benissimo, a un certo punto sembrava che avessi potuto recuperare il capoggio della partita, invece cosa ti è successo? Non c'è da dire che Pistoia penso che abbia fatto la mia partita al campionato, sinceramente, che hanno giocato benissimo. Ogni volta che abbiamo provato a recuperare, aumentando l'intensità in difesa, ho sempre trovato un buon libro, giocando molto bene di squadra e non so quanto hanno il percentuale da tre hanno tirato, ma ho sempre fatto veramente tanti canestri e anche tiri difficili. È stato un risultato un po' mente, secondo me, noi ci siamo stati, abbiamo avuto il giusto approccio alla partita, abbiamo avuto un calo di concentrazione nel secondo quarto e inizio l'ultimo quarto. Dobbiamo migliorare queste cose, imparare da Pistoia che dobbiamo giocare un po' di più di squadra e in difesa essere come loro, alzare le mani e difendere Tosti. Tornare a Scaffati sull'1-1 sarebbe mettere una bella mano sulla qualificazione per le semifinali, per cui lunedì veramente sarà una partita decisiva in cui metterete tutto per riuscire a pareggiare queste serie. Sì, 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 ma penso che anche oggi abbiamo dato tutto, tutto. Lunedì sicuramente sarà fondamentale, comunque dopo dobbiamo andare lo stesso a Scaffati, sono i play-off, può succedere più tutto, ci siamo qualificati in un modo incredibile, quindi io ci credo fino alla fine, finché siamo in gioco. E da Pistoia è tutto per delle basket Alessandro Giunto. Grazie.